Queste barriere antirumore non hanno mai avuto vita facile qui nel quartiere, lungo l'interquartiere appunto, perché prima, dopo e durante la loro installazione sono state molto contestate dai residenti, ma ora a destare preoccupazione a coloro che utilizzano la pista ciclabile sono questi spuntoni che servono proprio per il fissaggio dei pannelli. Pericolosissimi per ciclisti e pedoni, sporgenti e ravvicinati, sono in metallo pesante e sono alti anche oltre 10 cm. Sono le barre filettate che fuoriescono dalla gettata in cemento alla base delle barriere fonosorbenti e che sono asserviti per assicurare al suolo i pannelli con due grossi bulloni di serraggio, ma sono tantissimi e per tutta la lunghezza delle barriere, sia dall'autostrada che da quello interno, che solitamente viene utilizzato da ciclisti e pedoni. Sarebbe bastato, alla ditta che li ha messi in opera vincitrice dell'appalto, una volta installati i pannelli, tagliare l'eccedenza e metterci una protazione in gomma, cosa che non è mai stata fatta. E cosa ancora più grave è che chi doveva comunque controllare come erano stati installati non si sia accorto della pericolosità di questa finitura. Sono stati proprio coloro che da sempre utilizzano questi percorsi, che ci hanno avvertito di questa situazione definita da loro di estrema pericolosità. Perché caderci sopra significherebbe farsi sicuramente male, molto male, se non anche rimetterci l'incolumità personale. Una semplice caduta in bicicletta nel novembre del 2016 in Via L'Italia, a pochi metri dalle barriere, costò la vita ad un nonno, che era andato a prendere la nipotina all'uscita di scuola. Gli bastò perdere l'equilibrio e battere il capo per morire sotto gli occhi dei passanti. È proprio questo che si vuole evitare. Anche solo cadereci sopra di peso con il corpo, appuntiti come sono, sarebbero devastanti. Per grandi e piccoli, che spesso ci passano qui con le loro biciclettine, dal precario equilibrio. La loro sporgenza, poi anche verso l'esterno, non è da poco. Basta una sbandata e ci si finisce sopra, con disastrose conseguenze. Speriamo che l'appello agli uffici competenti del Comune, che i residenti e gli utenti della strada hanno affidato al nostro servizio, non cada inascoltato e che sia presto posto un rimedio per l'incolumità di tutti.